La tono calipo si conferma regina del volley mercato. La società giallorossa batte altri due colpi e lo fa in grande stile come sempre. Due tasselli nuovi di zecca che portano a tre il numero dei nuovi giocatori che vedremo in maglia giallorossa nella prossima stagione. Dopo il centrale Marcello Forni, a Vibo Valencia sbarcano in rapida successione lo schiacciatore Dennis Caliberda e libero Alessandro Farina. Il primo è un astronascente della pallavolo tedesca, classe 90, 195 cm d'altezza, ma già a punto fermo della nazionale germanica con la quale recentemente ha disputato un ottimo torneo preolimpico. Il club vibonese lo ha strappato alla concorrenza, molte infatti le società che avevano puntato i fari abbaglianti sul martello ucraino naturalizzato tedesco. Caliberda ha preferito la serietà della Calipo firmando un contratto che lo terrà in Calabria per almeno una stagione con opzione per l'anno successivo. Farina invece non ha bisogno di presentazioni, per lui parla la sua carriera e trofei messi in bacheca. 14 anni alla Sisley, 6 scudetti e 3 Champions League. Il libero Emiliano e il robustirà la difesa giallorossa aumentando nel tasso tecnico in un ruolo fondamentale nei meccanismi pallavolistici. E con l'arrivo di Farina prepara la valigia Fabio Fanuri destinato al Castellana di Dipinto che con tutta probabilità tornerà in A1. Sulla porta, destinazione partenze, anche Luis Diaz, lo schiacciatore venezuelano, si è accordato con i turchi dell'Holkbank.